Ciao ragazzi, anzi Ok ragazzi, oggi siamo da soli E entreremo nel mondo di Marco Ovviamente ho messo una moda e non mi vede Tipo, lui è entrato in una partita E lo trolleremo Esattamente E entreremo nel suo mondo Guardate, sto entrando E lo trolleremo Ora mi spuso in stanza con lui Ovviamente lui non potrà sentirmi, tipo Ok ragazzi, mi sono fumutato Ovviamente lui non mi sente, ma noi sentiamo lui Ah, finalmente posso giocare Nella mia famiglia Lì ragazzi, non mi sente? Ecco qui, è fumutato Domiamo Ma in un letto non c'è Non dico No, ho spogliato Perché non dormi? No Aspetta Marco, ciao Ciao Andrei Hai dei problemi? Eh, sto a cercare di dormire Ma non dormi, sono mai Ok, va bene, prova, scu Sì, mi dai Non c'è da qua Ok Non puoi esplorare Io vado, ok Nel mio mondo Con questo comando Un super troll E questo? Ok ragazzi, sono uscito Ora mi vado a mettere una cosa Sono ritornato a poco Ok ragazzi Sono ritornato E ho altri scherzi In servo per lui Lo bannerò dal suo mondo Sì, lo bannerò dal suo mondo Sì, lo bannerò dal suo mondo Quindi poi lo libereremo Perché Noi non lo possiamo bannare Per sempre, no? Quindi Guardate Sì, è tutto Quindi ragazzi Ragazzi, è morto Perché l'ho tippato Tipo in milioni di blocchi L'altezza Comunque Che altro scherzi So cosa fare ragazzi Metterò del fuoco in cazzo suo Ma voi direte no E la bruci Infatti noi faremo un comando Anzi non lo faccio direttamente Anzi no Dai Oh ciao Marco Ciao Andre Mi piaceva qualcosa strano? Eh, sono caduto da Mamma mia Di blocchi Non so come In che senso? Ma mamma mia Ma come? Poi c'è un isola volante Che non so come Nasce su Minecraft Sì Ma tu sei fa un video? No, no Stiamo ripetendo dei video Ok Quanti video hai fatto oggi? Un zero ancora Stai di da Ma 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 Che si vede? Adesso io ho trovato appena Mon villaggio Quindi mi muto Ok ciao Ah no aspetta Andrea Che c'è? Vabbè io rimango smutato Penso che appena do fastidio Va bene vabbè Io vado Però io non rimango Ok vado Ok Ragazzi Guardate che cavolo Che ho fatto? E comunque Ti consiglio di tornare a casa tua Boh Perché Perché devi stare al villaggio? Eh no Perché sto a cercare un po' di cibo No vabbè Vai a vedere Perché si distruggi veramente? Ragazzi perché si Perché 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 Ho fatto comandato Ho fatto comandato Ho fatto comandato Ho fatto comandato Vabbè distruggiamolo direttamente Cazzo tua Chi se ne frega Non sto farvi No non sto facendo nessun video No sto abilitando il video Perché? Ah soffoca Come soffoca E' gaia E' gaia No Una qua Stacca 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 Noi ho po' finire L'ultima cosa Ok 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 Ah Ok ragazzi Ora non mi faccio Nei 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 Non mi faccio Ma 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 Cazzo la passa Oh No 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 Andrea Oh Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? No che c'è? Perché non toglie le foglie Giusto Non c'è Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Corri 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 cari Non prendo danno Sì, no, in quel mondo non prendevi danno col fuoco In caso succedesse questo, però adesso continui a dire il video e dopo Ma c'è un altro villaggio là, ma sono circondato da villaggi Che bello Ragazzi, lo stiamo trovando ben bene, ma ora mi metterò la skin di AeroBrain Che bello, giustamente poi c'è un villaggio abbandonato, no? L'ospedale ragazzi Ah ragazzi, comunque mi sono messo con lui e non vede il mio nome Quindi il mio nome lui non lo vedrà neanche un pochino Poi quindi lui Oh Marco C'è? Contro un attimino che c'è nel mondo Eh, solo io Ah ok, meno male, ok ciao Ok ragazzi Vedete come avete sentito Ok ragazzi Marco, stai fermo un attimo Boh, forse vedi qualcosa C'è AeroBrain, Andrea? Come c'è AeroBrain? Che stai dicendo? Ti manda uno screen No, non mi manda nessuno screen Vabbè mandamelo No, non ce la faccio, non me la farò lo screen No, non ce la faccio No, stai dicendo il video Marco che ti devo dire Ciao AeroBrain Se mi che vuole Se mi che vuole Ah, ah Quindi ora Oh, vabbè posso andare tranquillo Non la farò tanto bene Un mio pannetto caldo Ah ragazzi Ok, mi sono Un attimino, mi è muto Sì, ma perché ho sentito ragazzi? Ti ho detto sto ideando i video E perché dici ragazzi? Perché devo Sto mettendo la parte iniziale Sto mettendo un biscotto di quelli che mi avevi regalato tu Ah, ok Quelli che ti avevo regalato io Sì Ok ragazzi Mi ti po' da lui Mi ti po' da lui Mi ti po' da lui Marco stai fermo un attimo Forse boh Quando giro è dintorno Marco Controlla Perché qui c'è AeroBrain Non c'è niente Non c'è niente quindi Sicuro? Boh, guarda pure in alto Guarda pure in alto Guarda tutto Marco Perché non parli più? Non è tutto una cosa Cosa? Stai fermo tu Che c'è? Marco perché non parli più mo? AeroBrain AeroBrain Che ho fatto mo? Oh, dove stai tu? Oh, che cosa? AeroBrain mi ha ucciso Con che? Con la lava Ma scusa non potevi In nessun modo si può morire con la lava Ma scusa Guarda lì dietro L'ho visto AeroBrain No, guarda lì dietro Vedi che fa, ok? Continua a vedere che fa Che fa? L'ho ucciso L'ho solito Cos'era AeroBrain Sì vabbè che continua il giornal mio e me ne devo andare ok ragazzi ha capito che ero pure in ma ora ragazzi e ancora la pala 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 se vado a fare qualcosa no 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 acqua da cavolo andiamo e Marco allora aspetta no guarda quello che fa e guarda quello che fa no ancora peggio e Marco ti consiglio di aspettare consiglio di aspettare quello che fa continua a guardare quello che fa la scuola è stata che scrive stop fermati ciao ciao che scrive stop fermati voglio aiutarti chiedimi qualcosa vediamo se tutti le spese scave oh che ti sai scrivere aspetta ho fatto un attimo in chat in chat quindi non mi senti giusto perché allora rispondi no vabbè vabbè no no ehi leggi che testa scrive che testa scrive no togli la chat in chat ok ok vediamo in chat ti sento ah c'è l'acqua c'è l'acqua facciamo unire in acqua di qualcosa e io te ma tu ma sei amicole quindi Oh, quindi ho capito bene, basta che dici qualcosa a voce e te la darà, dì. Basta che lo dici a voce, non l'aveva detto. No, basta che lo dici a voce, dici la voce. Non ho capito bene, così non mi vedo, non mi vedo. Ho pure fatto così. Eroba non ti vanno a prendere. Dove stai? È dietro di te, eroba punta sempre dietro di te. Anche se non che vuole. Quindi vogliamo farlo insieme? O che dici qualcosa? Eroba, su. Eh, eh, una nuova casa. Intanto io voglio sforrare. Che hai chiesto, scusa? Una nuova casa. Sì, veramente. Sì. Tu, tra tutto, volevo poter chiedermi una nuova casa, perché te l'ha bruciata. Sì. Vabbè, te la rilusco. Ma comunque se mi rifaceva tutto il portale del meter, non è che mi dispiace. Però, no, lui non c'è sulla casa. Guardate bene, tutta l'ora. Vole, non sono matta. Anzi, ma tu vuoi vedere cosa fanno? Eh, infatti sto cercando sta, che non la trovo più. Eccolo. Ah no. Eccola Skin. Mi chiamiamo. E' in diamante. Guarda, ora lo spacco un blocco e mi mi dà la terra. Sì, sono tanti che l'ho ucciso. Forse perché non puoi spaccare la casa che ti sta costruendo. Bastava chiedermi di darmi tutto in diamante e lì ce lo davano. E chi è il brano? Noi siamo in camera nostra. No, io sono in camera mia. Comunque vabbè. Ciao ragà. Quanti desideri puoi fare? Quanti desideri puoi fare? Ehi, basta che se tu gli dicessi costruiscimela velocemente. Scusa. Dammi tutti un'interdite. Ma no, se gli dici costruiscimela velocemente. No, no. Non è quello che si può. Che c'hai in mano? Non vedo, aspetta. Lascia il legno. Ah. Ma quanti desideri riesci a esprimere? Nove, 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 nove. Stai scherzando? No. Gentile. Oh, figlio. Un grattacielo. Eh, proprio per me, un grattacielo. Anche qui c'è un piccolo infetto, me lo sarebbe rubato, però non posso. Che ti ha scritto, scusa? No, è il primo piano. Quindi è il primo piano? Quanto è alto, tipo? Eh, quanti blocchi saranno? 20, 20, oppure 30. Hai veramente? Sì. Non mi vuole fare una torre in diamante. Vabbè, comunque sarà gentilissimo allora, non gentile. Marco, posso dite un'ultima cosa? No. Poi me ne vado. Che? No. Un'ultima, ultimissima cosa. Ok. Ok, ora mi rimetto il nome. Uh, le pozioni, le pozioni. Che dici, Marco, ora? Che dici, Marco? Che dici, dai? Tu dici qualcosa? Dai, dici qualcosa. No, mi devi la cosa. No, no. Perché io ti ho fatto il backup, quindi questo non è mai esistito. Lo sapevi? Quindi questa casa qui la togliamo e ora esci dal mondo. E vedi come si chiama? Ora ti diverti. Copia. Sai, io sto registrando. Quindi, ragazzi. Ciao, Tony. Ciao.